Mi sono venuto addosso dei bancali, ti cambia proprio tutta la vita. Dietro ogni striscione la storia di una famiglia o di una fabbrica che ha perso qualcuno. C'è l'operaio morto sotto una pressa e quello caduto da un'impalcatura e c'è chi al lavoro è sopravvissuto ma ci ha rimesso la salute. In migliaia si sono messi in marcia a Isola del Gran Sasso in provincia di Teramo guidati dall'AMMI, l'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro che denuncia tre morti al giorno e 40.000 nuovi casi di invalidità permanente all'anno senza contare i numeri della strage silenziosa legata alle varie malattie professionali. Questi incidenti sul lavoro, quelli mortali e anche gli altri, si possono evitare con il rispetto delle norme, con una cultura nuova ma soprattutto nuove controlli mirati nei settori più importanti. Basta strage. Sicuri del lavoro, sicuri sul lavoro, si legge su uno dei cartelli. Il pensiero vale nuove generazioni perché gli infortuni costano all'economia 476 miliardi all'anno secondo i dati dell'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, tema che dopo domani, primo maggio, sarà al centro delle celebrazioni unitarie di CGL Cislewila-Pra.